Buonasera a tutti, in sei anni in Parlamento io non avevo mai visto una cosa del genere. Dovete sapere che oggi ci è stato impedito di fare il governo del cambiamento e non perché noi ci eravamo induriti su Savona, non perché ci eravamo intestarditi su Savona, ma perché tutti quelli come Savona non andavano bene, tutti quelli che nella loro vita come personalità di spessore, professionisti, persone che fanno parte anche con la loro vita accademica, che avevano preso parte a considerazioni in dottrina sull'Euro e sull'Europa, chi era stato critico su questi argomenti non va bene come Ministro della Repubblica e allora se questo è il punto abbiamo un grande problema in Italia.